Dal dovere di evitare ogni forma di incompatibilità a quello sulla fedeltà, diligenza e competenza, dai doveri di aggiornamento professionale ai doveri nei rapporti con gli organi di informazione, dai rapporti con i magistrati a quelli con i testimoni e le persone informate sui fatti. Il nuovo codice deontologico del penalista è di stringente attualità perché esula dal contesto strettamente professionale del ruolo del legale e prevede una forma di collaborazione e ascolto con la comunità. Se ne è parlato nel corso di un incontro di formazione organizzato dall'Associazione degli Avvocati Andriesi nella sala consigliare del Comune di Andrea. All'incontro ha partecipato, tra gli altri relatori, l'avvocato penalista Michele Laforge del Foro di Bari. Un sistema di valori comuni di principi deve essere condiviso. Devo dire che poi c'è una parte che riguarda la cittadinanza in generale. Sarebbe bello poter spiegare alla gente effettivamente cosa fanno gli avvocati e cosa non fanno, perché di questi tempi si ha un'idea del lavoro del penalista che non corrisponde esattamente a quello che noi siamo, prima ancora che a quello che noi facciamo. L'incontro, ha sottolineato il presidente dell'Associazione Avvocati Andriesi, Francesco Montingelli, ha soprattutto lo scopo di aggiornare gli avvocati del Foro di Trani e non solo, della continua evoluzione cui è sottoposto l'ordine. L'Associazione Avvocati Andriesi ci tiene a formare i propri associati e tutti gli avvocati del Foro di Trani. Quello di oggi, sul nuovo codice deontologico e sulla funzione del penalista, è un tema di stretta attualità perché purtroppo è inutile nascondersi dietro un dito. La quantità di iscritti non sempre giova alla qualità della nostra professione e quindi il codice deontologico con la tipizzazione dei fatti illeciti e delle condotte illecite fa sì che ci sia un baluardo di legalità, un faro a cui ispirare la propria condotta.